Buon pomeriggio a tutti, come ha detto il professor Marsonelli, io sono Tiziana Tamicola, consigliera comunale del gruppo del sindaco Rucci e sono stata delegata da sindaco per portare oggi il suo saluto a tutti i partecipanti, i premiati, gli intervenuti. E anche per ringraziare la fondazione di cultura e di studio dedicata al professor Paolo Michele Erede che opera nel campo letterario e promuove iniziative a sviluppare e approfondire questi ambiti di conoscenza. Mi congratulo con la professoressa Franca Luz e con il vicepresidente professor Michele Marsonelli proprio per l'impegno profuso in questi anni nel portare avanti questo premio che è giunto alla sua quindicesima edizione e mi complimento anche con la scelta del tema che è di grande attualità soprattutto per chi come me opera politico e svolge un ruolo amministrativo nell'istituzione perché abbiamo visto proprio in questi ultimissimi anni, direi negli ultimi 5-6 anni, un'evoluzione proprio delle modalità di comunicazione a livello mediatico del politico. Quindi sono molto curiosa di ascoltare gli interventi e infine appunto vorrei portare anche i complimenti del sindaco a tutti i premiati. Grazie